Musica Musica Carline Cassese, bellissima vittoria del Ripacante Sì, hai detto bene, hai detto giusto. Bellissima il primo tempo. Purtroppo abbiamo questo difetto. Adesso purtroppo due o tre sospetti fanno una prova e ci è successo da quando abbiamo iniziato tra Coppa Italia e Campionato. Non riusciamo a mantenere la giusta concentrazione. Ormai sto fatto che la squadra è giovane, deve anche un po' passare perché fare un primo tempo ottimo onestamente. È stato un bel primo tempo, fatto bene, chiuso 2-0. Si poteva essere anche più cattivi in determinate situazioni, però ci sta. E' entrare come siamo entrati il secondo tempo. Una squadra che era ormai sotto, anche mentalmente. L'abbiamo fatta resuscitare con un atteggiamento incomprensibile. Questo mi fa rabbia. Poi l'abbiamo vinta bene, abbiamo fatto delle ripartenze che secondo me in due occasioni ci hanno fischiato i due fuorigiocchi inesistenti. Purtroppo adesso queste cose stanno diventando un po' troppe. A me non piace dire certe cose, però a questo punto la partita di Moliterno mi sta ancora peggio di come l'avevo presa. Perché siamo tornati da Moliterno per un'ingiustizia clamorosa, non c'è un rigore a un quarto d'ora dalla fine, clamoroso, stratosferico. Veramente non so come non l'ha dato. Poi abbiamo gestito malissimo l'ultimo minuto, una palla nostra l'abbiamo regalata e siamo tornati con 0 punti. A questo punto potevamo dire addirittura 6 punti. Questo però a noi non ci deve condizionare. Quello dove dobbiamo migliorare è la tenuta mentale. Non è possibile dominare una partita, entrare negli spogliatoi all'intervallo e uscire un'altra squadra con la testa da un'altra parte. Abbiamo rischiato di far rimettere in gesto una partita alla Murese solo per dei meriti nostri. Poi sì, abbiamo vinto, abbiamo fatto due bei gol, secondo me dei tre, su una situazione che avevamo preparato in settimana, il terzo. E questo fa piacere. Ma dobbiamo assolutamente crescere come mentalità perché l'eccellenza non è la promozione. Questa squadra non l'ha mai fatta e dobbiamo crescere sotto questo punto di vista. La partita non è mai chiusa, non è mai finita, finisce quando l'arbitro fischia. Bellissimo primo tempo, ma all'inizio del secondo tempo c'è stato un calo. Come mai? È stato mentale. L'ho detto fisicamente. Non stiamo ancora al top perché questa squadra, essendo una squadra giovane, essere una squadra che si allena quattro volte a settimana, non ho la fortuna che sono tutti presenti, deve fare ancora di più. Siamo partiti un po' in ritardo e forse non possiamo essere al top. Però il calo è stato mentale perché passata la bufera dei primi venti minuti, dopo la partita l'abbiamo ripresa bene, l'abbiamo rimessa bene e siamo andati a fare il terzo gol e potevamo fare qualcun altro. Grazie a tutti.